Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo all'ennesimo episodio di incagliamento che si verifica al porto rifugio di Gela. Ieri un'imbarcazione battente, bandiera francese con quattro persone a bordo, è rimasta incastrata a causa dell'insabbiamento dei fondali. Protestano i componenti del comitato del porto sul posto, gli uomini della Capitaneria. Vediamo. Era già accaduto nel 2012, si era ripetuto nel 2013, poi nel 2014 e anche l'anno dopo. Oramai si tratta di un copione già visto e rivisto e gli interventi sottoscritti in diversi tavoli tecnici tardano ad arrivare. E chi ne piange le conseguenze è la città. Sì, perché mentre si parla di cancellare il gruppo di lavoro del porto, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ancora una volta la situazione in cui verse il porto rifugio fa un'altra vittima. Ieri, giorno di ferragosto, è toccato ad un'imbarcazione a vela, battente e bandiera francese, lunga 13 metri, con una famiglia a bordo, rimanere incagliata. E come dicevamo, non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultima. Eccoci qui a Gela nel nostro porto, che così non si può chiamare comunque. E ancora la nostra amministrazione gelese gioca con la vita degli altri, con la vita sia della guardia costiera che delle persone, dei turisti che vanno per mare. E siamo qui a vedere una barca ingagliata con delle persone a bordo che rischiano la vita. E la guardia costiera avvicina, che non riesce ad avvicinarsi in quanto il porto essendo insabbiato, rischia di andare a finire sugli scogli. Fatemi capire un po' voi che spettacoli belli che abbiamo il giorno di agosto, il giorno di ferragosto. Sul posto si sono legati gli uomini della capitaneria di Porto, l'equipaggio è stato trasbordato. Questa mattina sono iniziate le manovre per rimettere in sesto l'imbarcazione. Grazie agli nostri amministratori, sia comunali che quelli regionali, non si prendono cura effettivamente di quello che sta succedendo. Il porto di Gela non è solo un pericolo per chi viene da fuori, ma è sicuramente un biglietto di visita non gradita per i forestieri. In una giornata simile a quella di oggi, con questo maltempo, io vorrei vedere come dovrebbe salvarsi quella famiglia su quella barca. Per un porto inefficiente, i nostri politici comunali, anziché dire barzellette in consiglio comunale, prendendo con le commissioni o non commissioni, perché non pensa a fare sbloccare l'iter per realizzare immediatamente questo porto? Il turismo a Gela, come lo vogliamo fare? Cosa dobbiamo portare noi a livello economico, a livello di sviluppo di queste città? Lei ne l'hanno chiuso, chiudiamo anche il porto, la gente non viene più, ce ne andiamo tutti. Poi andiamo sicuramente a casa dei vari sindaci o assessori che si sueguano o del grande presidente, o aspettiamo le prossime elezioni regionali per far iniziare i lavori. E se da un lato si protesta per quanto accade al porto rifugio, dall'altro si esulta il caso di una famiglia gelese, protagonista di un salvataggio di una tartaruga caretta caretta. L'esemplare di sesso femminile è stato rinvenuto con un amo infilzato nell'intestino. Sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Giorno di ferragosto con sorpresa per due gelesi. Si tratta di Carlo Romano, ex segretario cittadino del PD e del cognato Serafino Lopiano. Assieme alle rispettive mogli, a bordo di una barca, hanno vistato una tartaruga marina caretta caretta nei presi del porto e non ci hanno pensato due volte a portarla in salvo. È stata un'esperienza bellissima perché abbiamo portato in salvo una tartaruga, un esemplare rarissimo. Speriamo che si possa riprenderla più presto e possa ritornare un'altra volta in mare aperto. Abbiamo visto questa tartaruga che emergeva, i bambini l'hanno vista, e si stava un po' lamentando. Dopo abbiamo subito chiamato la Capitineria di Porto. Una volta arrivati è riemersa di nuovo e allora in maniera istintiva io mi sono buttato per cercare di avvicinarmi. La tartaruga si avvicinava a me perché è sofferente, ha un amo praticamente impigliato. Si è avvicinata a me, l'abbiamo tratto in salvo, si è buttato mio cognato per darmi un aiuto e poi con tutti abbiamo tirato su, è bella pesante. Comunque speriamo che si riprenda presto e vada in mare aperto. Questo significa che il nostro mare è un mare pulito. La tartaruga è stata controllata dal veterinario di turno. Ho mangiato un'esca con del amo, probabilmente un paramito, ed è praticamente assuperato la prima parte dell'intestino e quindi esce dalla cloaca il filo, quindi vuol dire che l'amo è rimasto agganciato ad una parte dell'intestino che non sappiamo qual è, per cui sarà necessario fare una radiografia e poi decidere di come e quando intervenire. Ma necessariamente bisognerà operarla. La cosa che adesso possiamo fare, proprio da subito, è cercare di fargli superare questa fase di crisi, quindi il fatto che non ha mangiato per molto tempo, quindi cercare di riuscire a dargli del mangiare liofilizzato, del pesce liofilizzato, mantenerla lontano per andare dal sole e sempre umida. Questa è l'emergenza che possiamo fare. Per il resto tutto quanto è demandato a quando le autorità che si occupano di tartarughe verranno, la sottoporranno ad una radiografia, l'intervento chirurgico e poi il normale decorso post-operatorio che sarà di circa un mese. È un bellissimo esemplare, dovremmo essere orgogliosi di avere questi animali nelle nostre zone, addirittura nel nostro porto, però purtroppo questo è uno degli inconvenienti insieme a quello delle buste di plastica che riguarda questo tipo di animali, perché in genere vedono le buste di plastica come delle esche, come dei pesci, le mangiano e quindi poi la busta di plastica crea degli impacchi a livello intestinale con dei blocchi e quindi la morte. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto. Siamo in contatto col centro di recupero fauna di isoprofilassi di Palermo per sapere anche le loro intenzioni, se dobbiamo rilasciarle in mare oppure viene ricoverata presso delle strutture della regione Sicilia, quindi in modo tale che può essere curata. Singolare ed originale protesta dei residenti di Via Teveragela hanno deciso di appendere a poca distanza dalle proprie abitazioni, così come dimostrano le immagini, dei sacchi della spazzatura ai rifiuti vari, quasi a schernire quanto si verifica in centro storico con i tanto criticati ombrelli. I residenti della zona protestano per la mancanza di attenzione da parte della Giunta, chiedono interventi nelle attività di manutenzione della zona e di bonifica, soprattutto rispetto alla folta vegetazione e agli alberi che contornano buona parte dell'area. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di partecipazione assieme ai suoi legati dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il prossimo 30 settembre, esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali e paritarie, ovvero ai liberi consorsi comunali per gli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente, se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un isè indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. L'amministrazione comunale di Gela condivide le apprezzioni raccolte dalla Commissione Consiliare alla Cultura nell'ultima audizione sui disturbi nei minori. Nei prossimi giorni incontrerò le associazioni che in questi anni si sono occupate dello screening di DSA per pianificare interventi integrati con l'azienda sanitaria provinciale e le scuole gioresi. Lo dice l'assessore comunale e servizi sociali Licea Abela esprimendo sensibilità sulla questione. Il diritto allo studio ha continuato, il componente della Giunta passa anche dall'attenzione che va prestata ai nostri alunni in difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento. Bisogna intervenire in maniera precoce con l'ausilio delle istituzioni scolastiche per individuare le fasce di attenzione clinica. Laddove invece i casi sono già acclarati è necessario accelerare sulla presa in carico del minore rispondendo ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. L'assessore Abela si è già interfacciata informalmente con l'associazione Il Tempio di Apollo che assieme alla cooperativa Carpe Diem ha seguito a Gela i ragazzi con disturbi nell'apprendimento e nel comportamento. I numeri che emergono dagli screening effettuati dalle associazioni sono per alcuni versi anche preoccupanti quindi è chiaro che prendendo atto di questo dato ho deciso di rincontrare nel più breve tempo possibile le associazioni e cercare di creare una rete che possa essere efficace grazie alla collaborazione delle scuole per fare in modo che in maniera quanto più precoce possibile possa avvenire lo screening di queste problematiche per fare in modo che lì dove emergano delle patologie, lì dove emergono dei dati che debbano essere attenzionati dal punto di vista clinico, possano essere messe all'attenzione delle istituzioni sanitarie il prima possibile. Al via l'edizione 2016 del corso di iconografia I Volti della Misericordia promosso dall'opera Pia Pignatelli Roviano di Gela e condotto dai maestri dell'atelier San Vladimir di Siracusa il corso avrà inizio domani e si concluderà il 27 agosto sono previste lezioni frontali e laboratori creativi il seminario teorico pratico prevede vari livelli di studio con lezioni di teologia estetica e tecnica oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'antica arte bizantina direttore dei lavori è la dottoressa Mirella Roccasalva Firenze maestra iconografa e docente di arte sacra e iconologia il corso è un progetto ideato da Monsignor Grazio Labbiso e dal direttivo dell'opera Pia appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21 nostro ospite è Peppe Di Cristina, segretario cittadino del Partito Democratico vi ricordiamo che le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 per una corretta informazione in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti a Gela da oggi la nostra emittente trasmetterà in ogni edizione del TG10 dei video esplicativi un servizio quotidiano offerto ai nostri telespettatori una vera e propria guida vediamo Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto Eccoci, seconda parte del telegiornale, proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese Oggi alle 20.30, davanti all'incantevole scenario della chiesa madre, si accenderanno i riflettori su Miss Italia Sarà incoronata Miss Gela e poi sarà messa in palio la fascia di Miss Equilibria Sicilia-Ovest Alle 21 nel piazzale della chiesa di San Rocco, dance con il DJ Ivano Corso alla consola Alla fine della sedata sono previsti i giochi d'artificio Hanno voglia, sentono l'esigenza di raccontare alla città tutto ciò che fanno, tutte le delibere approvate a tratti anche i pensieri ed i respiri La nuova giunta, la cosiddetta giunta politica, ha compreso che deve riconquistare il rapporto con i cittadini Orrivato ormai ai minimi storici Il modo per poterlo fare è comunicare Parlare attraverso la stampa, i mass media, i social con tutti gli elettori Ma quando la comunicazione non è organizzata diventa una torre di babele Il forte impulso ad afferrare un microfono e parlare, apparire sull'home page di un social o di un online Oppure ad apparire con la fotografia in prima pagina su un quotidiano Deve essere contemperato dal giusto modo nel farlo Fiumi di inchiostro sono stati consumati dalla letteratura sul punto Fermo restando che l'unico modo corretto per parlare con la città di cittadini È l'informazione istituzionale e dovrebbe avvenire attraverso l'ufficio stampa Che al momento è cristallizzato, congelato nelle sue funzioni Ma questa è un'altra storia Ma in realtà sarebbe la vera storia da raccontare Dall'altro lato, ciascuno fa quello che può Giustificato il vice sindaco Vito Margherita Che nell'emore del ritorno delle vacanze in Sardegna del sindaco Ha dovuto affrontare per informare tutti i cittadini dell'emergenza idrica a Santa Barbara Degli sviluppi sull'emergenza rifiuti La stessa parola impone il silenzio sulla polemica Emergenza Per il resto la normale amministrazione è stata affidata Ai rapporti personali con i giornali Alle telefonate un secondo prima che le cose accadano Una sorta appunto di Torre di Babele Dove ciascuno per un fine superiore Quello di informare i cittadini fa da sé Senza un comune filo conduttore Un piano di comunicazione serio Che vada di peripià passo con il progetto di città Quando anche uno ce ne fosse Quando la stessa notizia esce da più fonti Come lo dobbiamo chiamare? Anzi è da prestazione? Voglia di fare? Qual è il sottile confine che passa tra l'esercizio abusivo della professione Mandando comunicati stampa da uffici non preposti come l'ufficio stampa? La necessità di parlare con la città? E la confusione organizzativa? E' Luca Potenza tra i cinque primi under 16 d'Italia Il vincitore assoluto del trofeo Open a Maglio Moriconi Che si è svolto al club nautico di Gela Tesserato per la Junior a Cicastello La giovane promessa del tennis italiano Ha incantato il pubblico con grinta e sportività Battendo Andrea Licitra Potenza ha dedicato la vittoria ad uno zio recentemente scomparso E adesso parliamo di sport, in questo caso calcio Continua la nostra carrellata sui nuovi giocatori del Gela Oggi vi facciamo conoscere i due nuovi portieri Comincia il nuovo campionato, quello di Serie D Sicuramente è difficile Però è chiaro che così come già hanno detto i tuoi colleghi Ma così come dice la dirigenza Il Gela quest'anno punta ad un campionato Non dico di vertice ma quantomeno Si punta il playoff, lo possiamo dire chiaramente? C'è tanta voglia di lavorare E già ci sono anche ragazze esperienti Che stanno cominciando a dare i primi input e i primi segnali E questo ci fa capire quanto sia importante per il Gela questo campionato Ma già importa il suo titolare oppure sarà una guerra domenicale fra te e il tuo omologo? Diciamo che già con Moreno ci conoscevamo da prima Dispetto a ora Abbiamo fatto tutto il settore delle trafili del settore giovanile del Catania insieme E prima di essere colleghi sul campo siamo amici fuori Poi ovviamente è normale che sul campo l'amicizia viene messa da parte E si inizia un dualismo ovviamente sportivo Con ricco di agonismo però sempre nel massimo rispetto l'uno dell'altro Per quanto riguarda il ruolo titolare ancora è presto per dirlo Piano piano nel tempo comincerà a definirsi la rosa Allora lì potremmo dire sì c'è un titolare, no non c'è un titolare Però c'è un'eredità importante quella di Pendolfo che ha lasciato un ottimo ricordo al Gela Calcio Sì sì Daniele anche lui come uno e due già era stato nel settore giovanile Lo conosciamo anche bene Sappiamo della sua passata esperienza qua Ha lasciato un ottimo ricordo, due promozioni ha fatto se non ho sbaglio Quindi sì ce la metteremo tutta sotto questo punto di vista Per se non uguagliarla addirittura per superarla e far meglio Gela è una piazza abbastanza ambiziosa ed esigente I tifosi vogliono sempre la vittoria Quindi questo è un ottimo stimolo per fare bene sia durante gli allenamenti Soprattutto durante le partite del campionato Ma cosa ti hanno detto di Gela? Te ne hanno parlato bene speriamo Sì 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 assolutamente Gela è una piazza che vive di calcio Ne ha dato dimostrazione lo scorso anno nel campionato di eccellenza Quindi saremo sicuri che darà ancora maggior dimostrazione quest'anno Che affronterà un campionato più importante Ma qual è l'obiettivo? Lo vedremo nel corso del campionato se potremo ambire a traguardi più importanti Noi ovviamente partiamo con l'obiettivo della salvezza Poi se verrà qualcosa di meglio ben venga Con il tuo omologo c'è una concorrenza leale Però poi alla fine meriterà chi più durante gli allenamenti ha meritato di indossare la maglia numero uno? Sì sì assolutamente con Giorgio siamo cresciuti insieme nel settore giovanile Ci troviamo qui a Gela C'è assoluta stima e rispetto tra le due Quindi è una sana concorrenza Avete costruito un bel gruppo solido, amalgamato, vi volete bene? Sì sì assolutamente La squadra è abbastanza giovane Poi con tanti ragazzi già ci conosciamo perché hanno giocato nel Catania Quali Stumbo, Dadone, Schisciano Poi anche altri ragazzi che hanno giocato sempre qui nell'Inderland siciliano Quindi diciamo è un gruppo abbastanza affiatato Concerto del trio Echi Armonici Domenica 21 agosto alle 21.15 Nell'ex monastero delle Benedettine Nell'ambito dell'iniziativa L'Estate Gelese con la musica colta Promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra In collaborazione col Comune Si esibiranno Maria Provenzano, Piero Forte Angela D'Amato, Flauto e Giuseppe Cumbo, Oboe Appuntamento col teatro Venerdì 19 agosto alle 21.30 All'antidoto di Macchitella di scena La compagnia teatrale Antidoto In Don Quixote e Sanchu Panza Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia Abbiamo concluso anche per oggi Grazie per averci seguito Appuntamento alle prossime edizioni Grazie per averci seguito